Scatta l'operazione Y-Eco-Chic Time. La gamma Y-GPL e metano ti seduce in due rintocchi. Per la sua eleganza naturale, meno di 12 euro per un piano di metano. E per la sua offerta ecologica, fino a 4.000 euro di vantaggi. In più finanziamento anticipo zero e 4 anni tan zero. Y-Eco-Chic, offerta Eco-Shock. E-Eco-Chic Time.